E' oggi il giorno fissato per eseguire l'autopsia sulla cadavere in avanzato stato di decomposizione ritrovato mercoledì scorso in una villetta abbandonata della località balneare di Balatazze. L'esame autoptico, disposto dal PM Salvatore Vella, titolare del fascicolo d'inchiesta, verrà eseguito all'interno dell'obitorio del cimitero di Piano Gatta dall'equip del professor Cataldo Ruffino dell'Università di Catania. Prima dell'autopsia il cadavere verrà sottoposto all'esame del DNA, che chiarirà definitivamente l'identità della Salma, che si sospetta fortemente possa essere quella del giovane fabbro Angelo Truisi scomparso lo scorso 2 gennaio. Come si ricorderà dopo il ritrovamento del corpo senza vita, la madre di Truisi avrebbe riconosciuto una scarpa, alcuni brandelli di indumenti e un mazzo di chiavi appartenenti al figlio. Contestualmente proseguono le indagini da parte degli agenti del commissariato di Licata agli ordini del dottor Angelo Cavaleri e quelli della squadra mobile di Agrigento coordinati da Giovanni Minardi. Le investigazioni si stanno stringendo e c'è già un iscritto nel registro degli indagati. Gli agenti del commissariato di Licata e i poliziotti della squadra mobile di Agrigento su disposizione della procura della Repubblica di Agrigento hanno sottoposto a sequestro una vettura e indagato il proprietario. Nella vettura si cercano elementi utili alle indagini, tracce biologiche o altri indizi che possono ricondurre al ragazzo. Al lavoro gli esperti della polizia scientifica, che anche in questo caso analizzeranno il mezzo centimetro per centimetro.